Una vittoria che ti fa proseguire in questa onda lunga di successi, soprattutto di bel gioco? Sì, sto venendo da un buon momento e sto cercando di migliorare partita dopo partita il mio tennis, il mio gioco. Credo che sto migliorando match dopo match e sono un pochino più consapevole di quello che devo fare in campo, ho le idee più chiare. Questo mi aiuta, adesso ci sarà Federer, match difficilissimo, lo so, mi dovrò preparare e cercherò di impostare una partita molto aggressiva. Sara, con tutto il rispetto per la tua avversaria, il modo migliore per rompere il ghiaccio in uno slam? Un match veloce, dominato? Sì, sono molto contenta, non conoscevo la Min, quindi ho iniziato un po' piano piano cercando di vedere come giocava, di prendere le misure. Il fatto che comunque non sia una giocatrice che tira tutte le pallate mi ha aiutato un pochino a prendere un po' di ritmo. Ho fatto una preparazione corta, quindi sapevo di non essere in gran forma a inizio anno, ho lavorato tanto, mi sono allenata tanto e ora piano piano sto entrando in forma. Come va intanto la salute dopo tutti questi problemi di cui ci avevi raccontato? Insomma un inverno un po' complicato per te? Sì, sì, complicatissimo, ho iniziato veramente tardi, ho avuto queste due fratture alle costole che non si vedevano all'inizio, nessuno le ha viste, si è visto solo più tardi quando poi hanno formato il callosso, quindi ho iniziato tardi, ora da 4-5 giorni che non prendo più antinfiammatori, non sento più fastidio, quindi questa è una cosa molto positiva per me, di cui sono molto felice ancora prima di vincere le partite. Te quel brivido sul finire del primo set, un match che hai portato a casa con grande semplicità, almeno apparente, un buon inizio comunque di questi Australian Open? Sì, sì, un buon inizio, sapevo che era una partita difficile, però ho iniziato molto bene, molto concentrata, molto carica, regalavo poco, avevo bene in testa le idee da fare, e bene, 5-2, ho avuto tante occasioni per vincere il set, ho perso il game del 5-4, sbagliando due dritti molto facili, però non mi sono demoralizzata, ho comunque continuato a lottare sul 5 pari e sul 6-5 l'ho breccata, ovviamente avendo vinto il primo set così lottato è stata un po' una boccata d'ossigeno, ho iniziato bene il secondo, è stato fondamentale vincere il game del 4-0, lei un pochettino si è demoralizzata e quindi è andata liscia fino al 6-1. Prossimo turno un'avversaria molto complicata, intanto testa di serie numero 10, Katrinia Makarova, che però conosci molto bene, che sfida sarà? Beh, ci conosciamo molto bene, abbiamo giocato tante volte insieme, l'ultima volta ci ho vinto io a Pechino in 3-7, se non ricordo male, sarà dura, Makarova gioca bene, Mancina è una che si appoggia molto, poi al ridosso delle prime 10, quindi comunque l'anno scorso ha avuto grandi risultati, io dovrò fare il mio, dovrò cercare di giocare aggressiva come sempre, spingere, variare molto col mio rovescio, cercare di andare avanti ogni tanto a retta e cercare di non darle mai una palla uguale, insomma, fare il mio gioco. Andreas, con Istumin è una sorta di partita a specchio, insomma, due giocatori simili, sempre quinto set, perché oggi hai vinto tu? Beh sì, come hai detto tu, insomma, cinque volte su cinque abbiamo fatto cinque set e anche oggi, insomma, una dura battaglia e forse ho sfruttato bene il momento, la fine del quarto dove ho vinto 6-1 e sono riuscito a breccare subito all'inizio del quinto e poi soprattutto penso verso la fine del quarto, inizio quinto, ho iniziato a spingere un po' di più anche sulla risposta, a prendere qualche rischio in più e sì, alla fine sono stato bravo a chiudere sul cinque a quattro, perché lui si è rimesso lì a giocare molto bene, ha avuto qualche palla break e sì, insomma, sono contento di averlo finito sul cinque a quattro. Al prossimo turno un avversario che hai affrontato proprio su questi campi, qualche anno fa, e Jeremy Shardy, che match ti aspetti? Cosa devi fare per invertire la tendenza? L'ultima volta aveva vinto lui e ti aveva strappato i quarti di finale. Sì, è un avversario che soprattutto su questi campi gioca bene, ha un ottimo servizio, anche la seconda la gioca sempre molto bene, molto veloce e quindi non sarà facile, devo cercare di sfruttare quelle chance che magari mi dà se avrò qualcuna e sì, cercherò di prendermi, insomma, la rivincita degli ottavi di finale due anni fa, che sicuramente è stato un match che un po' mi ha pesato alla fine. Nella tua scala di gradimento, diciamo così, gli Australian Open dove li metti rispetto agli altri slam? Penso come organizzazione o come sono migliorati negli ultimi anni, forse è lo slam migliore. Insomma, hanno migliorato tantissime cose, hanno fatto campi nuovi e danno tantissimi servizi, magari in più degli altri slam, quindi secondo me da quella parte lì è il migliore, poi un po' troppo lontano dall'Europa, però quello non ci possiamo fare niente. È sempre difficile giocare con queste giocatrici il primo turno, perché loro comunque partono subito forte, tu magari entrare, giocare subito bene con queste giocatrici non è mai facile, però d'altronde non essendo testa di serie può capitare chiunque, quindi questa volta è andata male, però sono positiva, mi sono confrontata con il numero 3 del mondo e comunque sono riuscita a metterla anche in difficoltà, quindi ci sono delle parti positive e negative che mi porto a casa.